Casa Bruschi non è mai stata chiusa o a livello telematico o a livello di incontri dopo che si sono aperte un po' le porte alla possibilità di stare insieme gli eventi si sono susseguiti e stasera inauguriamo una nuova serie di incontri con un ospite di prestigio come il direttore degli uffizi Ike Smith intorno al libro di Federico Dascoli sulla città di Arezzo quindi gli uffizi con il loro progetto di uffizi diffusi si aprono al territorio Gli uffizi si legano alla Casa Museo di Ivan Bruschi questa sera proprio all'interno della Casa Museo una conferenza che vede la presenza del direttore Eric Schmidt ed è proprio lui ai nostri microfoni ad annunciare importanti novità Abbiamo fatto dei sopralloghi tecnici oggi pomeriggio insieme al sindaco insieme al direttore dei musei comunali e oggi parte la fase concreta di pianificazione non sono solo io ma è tutta una squadra degli uffizi che ci lavora insieme al comune di Arezzo la caratteristica di queste mostre ma possono talvolta anche essere un po' di più di mostre degli uffizi diffusi e effettivamente quello che gli uffizi collaborano con in genere i comuni per un'offerta culturale del XXI secolo Il direttore degli uffizi rimane piuttosto ermetico sulle opere che potrebbero arrivare nella città etrusca intanto si gode il politico della misericordia all'interno della pieve di Santa Maria Ora se si avvia un percorso di sinergia con gli uffizi direi che è il traguardo che ci proponiamo per diffondere ancora di più l'arte che va non dico ad inseguire il visitatore ma che si pone sempre di più vicino al visitatore quindi un nuovo modo di fare arte museale diffusa nel territorio e quindi per dare fiato a tutto il territorio e vantaggio perché no a tutto il territorio su questo la Casa Museo ce l'ha come propria missione e ci auguriamo davvero di portarlo a compimento sempre di più Come ti sembra che i turisti stiano scoprendo la nostra città? I numeri non tradiscono nel senso abbiamo visto anche nel ponte di Ogni Santi che di solito in questa città non era mai stato così popolato abbiamo visto il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e anche negli agriturismi quindi credo che i numeri ci siano è chiaro che poi questo momento magico va tenuto alto l'occasione del Natale dei mercatini può essere un'occasione importante anche se credo che Arezzo non debba solo parlare di questioni tirolesi ma possa anche promuoversi in maniera più schiettamente aretina